Il tramonto di sabato 17 luglio avrà inizio il 9 di Av, Tisha B'Av, una data di lutto che ricorda la distruzione del Betta Mikdash, il Tempio di Gerusalemme, ma anche altri avvenimenti drammatici avvenuti proprio in questo giorno, come la decisione della cacciata degli ebrei dalla Spagna. È una giornata di digiuno e di preghiera con profondi significati. Il 9 di Av, Tisha B'Av, che quest'anno corrisponde appunto alla data del 18 luglio, con inizio appunto che va da un tramonto all'altro, è un digiuno molto molto importante e appunto è una data che il popolo ebraico consagra al digiuno e al lutto. In questo giorno si commemorano avvenimenti assai importanti della storia ebraica, in particolare la distruzione del Tempio di Gerusalemme del Betta Mikdash, avvenuta la prima volta nel 586 prima dell'era volgare ad opera dell'esercito babilonese guidato da Nabucodonosor, e la seconda volta nel 70 dopo l'era volgare a seguito della conquista della Giudea da parte dell'imperatore romano Tito. Da quel giorno gli ebrei non hanno mai cessato di rivolgere a Dio la loro preghiera e la loro speranza affinché facesse appunto risorgere Gerusalemme e vi raccogliesse i dispersi intorno al Tempio ricostruito. Tisha Be'av è una ricorrenza particolarmente sentita dagli ebrei romani, che provano con Gerusalemme un rapporto speciale. Altro ricordiamo la distruzione del Tempio per opera di Tito, dell'imperatore Tito, quindi qua ci fu l'esilio che è iniziato nel 70, gli ebrei furono deportati a Roma, quindi è praticamente un ricordo che ci lega, ci lega più che a chiunque altro, ad Erez Israela, ad Israele, a Yerushalayim. Secondo una tradizione il Messia sarebbe nato proprio il giorno in cui è stato distrutto il Betta Mikdash. Un'altra tradizione vuole che dice appunto che il Messia appunto si trova a Roma, il Messia sarebbe appunto partito da Roma e quindi ecco questo legame anche tra l'altro dagli ebrei romani con questa speranza messianica e il 9 di Av, lo Stato di Israele e Gerusalemme ricostruita.